3, 2, 1 non hanno alcun segreto non ha nessun segreto le caverne di calia allora spero vivamente di ricordarmi dove andare ragazzi perché a volte mi perdo perché se va tutto liscio e mi ricordo dove diamine devo andare il livello durerà veramente tipo una decina di minuti infatti voglio registrarvi e approfittarvi di questa diciamo vorrei approfittare appunto per la brevità di questo livello ragazzi per potervi registrare la prossima puntata se il signor masso che mi sta in culo in culo la smettesse di rompere può darsi che va tutto a posto io salvo spesso ragazzi perché questo livello è veramente semplice ma è anche infame è anche un bashtordo infame mi ha fatto jump scare vi giuro che mi ha fatto jump scare non so se si è notato infatti ho sbandato lo sapevo ma con quella musica rompe i gabba sisos comunque anche perché come ben sapete oggi che vi rilascerò stesso il video dopo averlo registrato che è 24 gennaio c'era qualcosa da prendere un altro jump scare lo sapevo e questo bagasso e questo bashtordo infame mi ha comunque fatto jump scare oggi sono facilmente impressionabile allora andando da alcune parti si dovrebbero prendere degli item extra che io cercherò di prendere però ragazzi non so se riesco a prenderli tutti ma tanto infatti proiettili per fucilazzo a pompa non ci interessa perché la cosa che ci interessa di più sono sicuramente i segretozzi quindi quella è la cosa più importante tra tutte qui come vi ho detto ci sono zero segreti però se riesco gli item in più ve li prendo infatti abbiamo un infame bashtordo di snake no di serpente snake di metal gear solido non è un infame bashtordo mi pare che questo masso si può spostare anche da qui per semplificare e diciamo accedere da subito al passaggio senza doverlo spostare più volte in avanti quindi rifacciamo il giro tra l'altro scusate per la cattiva luce ma oggi qui è un tempo cupo però come vi ho detto oggi è 24 gennaio uscirà resident evil 2 remake domani e quindi mi dileguerò quindi ho deciso di registrarvi oggi altrimenti ragazzi sul serio dopo mi dispiace lasciarvi senza video ve ne lascio uno a settimana per il semplice motivo che almeno avete il tempo di guardarvelo se ve ne lascio più a settimana ho notato che non ce la fate a guardarlo tutto quanto il video ma passate al prossimo e non finite di guardare questo mi sto già perdendo quindi non devo ritornare di qui perché le strade sono collegate nel caso vi ritroverete un taglio ragazzi perché non vorrei veramente che durasse 20 minuti sto livello stupido allora sicuramente devo andare di qua poi qui era a destra perché qui era piccolo no dovevo andare dove andare a sinistra perché era chiuso ok poi qui è chiuso eh no nonostante lo sappia abbastanza a memoria comunque mi perdo ancora ogni tanto mi capita oia non ti far male ok quindi scusate per la poca luce ma qui il tempo è cupo però come vi stavo dicendo voglio registrarvi assolutamente altrimenti mi dispiace che diciamo presa da resident evil 2 remake mi dedico così tanto a quest'ultimo da lasciarvi senza contenuti allora ragazzi se vi trovate un taglio è perché non so a volte riesco a trovare subito la strada a volte no adesso è veramente tanto tempo che non gioco a Tomb Raider 3 e quindi potrei rischiare di commettere errori per cui vi troverete sicuramente qualche taglio in cui vi faccio vedere direttamente la strada ottima appunto che sarebbe questa adesso l'ho trovata subito vedete cioè prima diciamo ho girato un pochettino e poi in realtà e poi in realtà ho fatto subito io salverei perché era proprio dietro l'angolo la strada giusta ma a volte la trovo e a volte no non chiedetemi il perché allora prima di tutto io farei con calma ma bagasso infame mi hai preso no non mi è mai capitato ragazzi che mi avesse preso vi giuro mi hanno preso bene corriamo vediamo contro il tempo se gliela fo prima che il veleno mi ammazza vediamo vediamo una corsa contro al tempo speravo di non farmi beccare come sempre invece mi ha beccato ma alla fine sei proprio un bagascio ah però per fortuna c'è un medikit che non useremo mai no non è vero se avrò bisogno lo useremo ma in questo caso non vorrei usarlo e vediamo che arma a scegliere tra fucile a pompa perché io ero pazza e lo facevo con le pistole il boss che verrà fra poco e basta perché abbiamo praticamente solo il fucile vero non abbiamo preso altre armi quindi io direi di provare col fucile per semplificare un pochettino le cose il restante se qualora continuassi a vivere di farlo con le pistole perché altrimenti se state con le pistole si può fare ma ci vuole veramente un po' un po' di tempo in realtà potete prendere anche il lanciagranate e farlo subito attenzione veramente attenzione ragazzi se no ci puoi appicciare ecco qua abbiamo usato ben 14 proiettili o 13 perché non ricordo se ne avevamo 14 o 15 e abbiamo fatto fuori toni un'altra strategia però è quella di riuscire a beccare il lanciagranate perché da quel che avete visto ho raccolto un bel lanciagranatozze e cercare di sparargli quelle con quello si fa ancora prima vediamo c'è qualcos'altro sì c'è un medikit piccolo è bellissima questa song ragazzi facciamo figure del dic e prendiamo la pietra in fada per gustarci questa cutscene spero non mi consideriate come quel ricercatore ritardato che forse avete conosciuto signorina Lara io sono il dottor Willard ero venuto a parlare con toni di persona ma sembra che voi abbiate svolto un lavoro molto più efficace mi avete impressionato indubbiamente avrei dell'altro lavoro da offrirvi che cosa? lasciarci le penne con qualcun altro dei vostri ragazzi? no grazie fortunatamente sono state le uniche cose che abbiamo lasciato sul campo no la mia richiesta è per altri tre artefatti come questo l'artefatto della tribù in fada era unico non esistono altri comunque perché vi interessano? ve lo mostrerò questo reperto non è originario dell'India arriva da un'isola dell'Antartide proviene da un meteorite ed è stato modellato dai polinesiani che millenni fa risiedevano in quella zona vedete? un materiale sconosciuto assolutamente unico e come ha fatto a finire qui? forgiato dai pianeti scolpito dai polinesiani disperso dagli stupidi i nostri scavi e le nostre ricerche ci hanno fatto scoprire questo il diario di un marinaio imbarcato a bordo della nave di sua maestà Beagle durante la spedizione di Charles Darwin 14 agosto 1834 questo viaggio sta diventando troppo noioso per essere raccontato nel diario le mie avventure sui mari sono una lagna mortale ore e ore spese a osservare gli uccelli o a raccogliere e conservare fiori sempre inseguendo le blasfeme idee del comandante Darwin ma questo al momento non mi interessa voglio solo del cibo qualcosa di diverso dalla brodaglia vegetale che si mangia qui oggi abbiamo stretto un patto noi cinque gli unici campioni che raccoglieremo saranno di carne pura solida sanguigna carne beato chi ti mangia una caverna interesting non c'è più neve non vedo più le tracce tu continua ad avanzare ormai gli siamo addosso intraprendenti impavidi possono scivolare e rompersi l'osso del capocollo c'è qualcosa qui oh oh non ce l'ha fatta steven steven mi sa che si romperà presto l'osso del capocollo ah no in realtà è illeso uno zombie è meglio che nessuno dica niente al comandante o dovremo tornare laggiù a caccia di quelle creature per i suoi esperimenti pole è caduto in un crepaccio d'accordo d'accordo steven amen steven sarebbe stato l'unico superstite di quei quattro tornato a londra ha venduto l'artefatto in preda a una superstiziosa paura dopo aver visto i compagni uccidersi fra loro uno qui in india uno nel pacifico del sud e uno nel nevada i luoghi dove vi vorrei inviare mi sembra interessante spero che stia continuando a registrare perché come vi dico sempre sul pc c'è questo problema delle cutscene detto cutscene apposta in realtà è cutscene lo so in cui praticamente si vede tutto brutto e non so rompe un pochettino però io poi ve le prendo dalla playstation e ve la metto durante l'editing comunque questo è il video come vedete è molto breve 7 minuti e 30 i segreti scoperti nessuno perché le caverne di calia non hanno segreti abbiamo ucciso ben 6 nemici utilizzato 154 munizioni abbiamo colpito 121 bersagli abbiamo utilizzato 0 medikit e la distanza percorsa è stata 686 metri quindi spero che questo video vi sia piaciuto a tal proposito vi invito a mettere un polliciazzo in su come di incoraggiamento che non fa mai male di iscrivervi al mio canalozzo a meno che non lo siete già ed in più ad andare ad attivare la campanella di notifica ogni qual volta che riceverete ogni qual volta io posterò un nuovo contenuto sul mio canale inoltre vi aspetto con tanti commentini ragazzi mi raccomando perché grazie al vostro sostegno sono sempre motivata ad andare avanti e fare sempre meglio in più vi invito anche ad iscrivervi ai vari social che troverete giù con i link nell'info box come Instagram e la pagina Facebook soprattutto anche sulla pagina Facebook attivate anche lì di ricevere quotidianamente notifiche in quanto ogni volta che posterò comunque nuovi video su YouTube farò anche un post relativo e aggiornerò anche la pagina Facebook con link e playlist quindi questo è quanto e spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao ciao